del sottoscritto. Però ecco, invece di andare a casa, prima di aggiungere qualche parola di presentazione del progetto e del filo di comunicazione che vogliamo sviluppare attraverso Ferrari Italia, vi propongo come nostra abitudine attraverso il giornale una suggestione musicale e partirei proprio con questa, che è il brano che abbiamo ospitato il primo giorno in cui Ferrari Italia è andato online.